Benvenuti in questo video, io sono Gino95 e siamo su E-Day Livello 58, non so se vi ho già mostrato il livello 58 che sblocca la novità 59 Ovviamente, e mi da anche i diamanti che sono buonissimi Se vedessi un po' di più magari sarebbe meglio, però ok E non vi faccio vedere la novità del 59 perchè ci devo ancora arrivare Quindi lo farò vedere poi quando ci arrivo il 59 Ad esempio se riesco a registrarlo, se riesco a registrarlo, ci arrivo io e non vi faccio vedere Però ogni livello dovrei farvi un video in cui vi faccio vedere che sblocco le novità Che ho sblocato le novità Dici mazzuoli Dali a me mazzuoli, no, le ho già prese Mi hanno fregato Ok Alla pancetta, dai la pancetta No, le ho già prese la pancetta Le offerte devo prendere subito perchè ti scappano proprio Vanno a ruba proprio E in questo episodio vi andrò a mostrare le cose e cercherò di fare una cosa insieme a voi Adesso non so se riuscirò a farla perchè dipende se Riesco a completare i carri Vedete 15 su 18 Devo arrivare a 18 per arrivare a prendere la ricompensa che Che qua Questa qua Questa qua aspetta eh Qua summer fair No, summer fair no E' sparita Questa qua devo fare Però non Ah eccolo Ok Summer track delivers Manca un giorno e 14 ore In un giorno e 14 ore devo fare almeno altre consegne col furgone Se arrivo a 18 Mi da L'evento globale che dovrebbe darmi dei diamanti Spero Dovrà, spero che dovrebbe darmi dei diamanti Adesso faccia fatica per arrivare se dovrebbe darmi dei diamanti incredibile Le asce me le tengo ragazzi Non te le voglio dare Signore In questo episodio cercherò da arrivarsi Prima però vi faccio vedere le novità A ben dato andiamo, andiamo No, questa parte non ci devo andare secondo me No, non ci devo andare Ehm, allora vediamo se ci sono delle casse da prendere Ok, questa Che mi da 50% Scarta Non mi serve Vedete se ho la ricompensa di una lira Ah, il diamante però devo guardare il video per il diamante Quindi non posso farlo Perché guardare il video, cioè, non è bello E poi farlo in video, cioè Non ve lo faccio vedere in video Il video di una pubblicità Se no diventa anche più brutto il video Va bene, comunque a livello 58 Ho sbloccato Questo qua Il banco insalate Banco insalate Che mi fa l'insalata appunto Dei vari tipi di insalata Però l'abbiamo solo l'insalata di feta Che si fa con la lattuga Che è la lattuga È una nuova coltivazione Quindi adesso possiamo fare anche la lattuga come coltivazione E il 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 formaggio di capra Il Il pomodoro arrosto E le olive Quindi danno utilità alle olive Per l'olive Per l'olive Per questo qua Per l'insalata di feta Il fondo Che non so quale sia Però sembra essere la pancetta sopra Quindi non lo so Sembra la pancetta quella lì Ho fatto un po' di salsa di soia Però adesso la sto accumulando Perché qua sto facendo Il sushi Che mi serve la salsa di soia Per fare il sushi E mi serve anche il riso E il riso me lo consuma Quindi c'è ogni sushi Quindi c'è ogni voltino di sushi Per dire precisamente Quindi c'è Consuma tanto Consuma tanto E quindi è proprio difficile fare questo Un po' per quello Un po' per il pesce Un po' dispendioso Anche la salsa di soia Un po' dispendioso Però la salsa di soia non ho 25 adesso Quindi non ho tantissimo Quindi non dovrebbe essere un problema per me Vabbè allora Cerchiamo di fare questo evento Ho spoccato un'insalata Che l'ho messa qua l'insalata Questa qua Questa qua verde E l'insalata La lattuga Più che l'insalata Che non so se c'è la stessa cosa Però ok Due di pancetta Ok facciamo due di pancetta Due di pasticcio di pancetta E lo possiamo consegnare Ok Poi il salone di Johan vuole La canna e la zucchero La zuppa di Aragosta E il gelato alla vaniglia Ho gelato alla vaniglia Io ce l'ho Però secondo me devo farne un altro Perché l'avevo fatto per un altro ordine Zuppa di Aragosta Zuppa di Aragosta Il tuo bene Poi Infatti il gelato alla vaniglia qua Ci serve il Il porcorno E il miele Il lato dei frutti rossi Il porcorno e il miele Ancora no Ah e mi sono potenziato il La capenza del cannaio Adesso mi può fare 925 di spazio Se le ricompense se le vanno Ok 925 di spazio Quindi adesso ho un po' più di spazio Anche se adesso lo limperò facilmente Perché devo ritornare A avere questi prodotti Per espandermi ancora Per 950 Non so se riuscire a fare 1000 di spazio Però è tanto Devo fare il Il porcorno al miele Quindi mi serve il miele E facciamo il porcorno al miele Ok Non so quando vedrete questo video Forse O giovedì o venerdì Adesso non so come ve l'ho fatto in castello Perchè diventate le scelte un altro video Perchè dopo questo Dove registrare un altro video So che non so se ho il tempo di registrare un altro video Quindi Considerate che Può darsi che Non so se Riesco a fare Vedete se lo raccoglio qualcos'altro No Qua possiamo fare altro 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 tessuto di cotone Facciamo altri 4 Questo lo facciamo Questo qua Ok Pomodoro Pomodoro arrosto Ciasse di pomodoro Pomodoro arrosto Insalata di feta E E riso Ok Vediamo se riesco a farlo insieme a voi Se ho vento Non so se riesco a farlo Non vi dico Non vi ho detto che l'avrei fatto insieme a voi Ce l'avevi provato Qua facciamo questa roba Ok forse ce la faccio Forse ce la faccio Perchè insieme a voi Nel frattempo raccogliamo un po' anche le coltivazioni Così ne facciamo dell'altro 3 di questo 3 di questo 3 di questo E andremo tantissimo Poi farei La canna da zucchero Un bel po' La soia Che mi serve sempre tanto La soia A questo punto Carote Carote Quattro di carote basta Quattro di carote basta Poi facciamo due di indaco Indaco Accogliamo altra roba Liberiamo lo spazio Un altro indaco E poi facciamo Tre di zucca Cotone Un po' di più Ok Pepperoncino Lo mettiamo tre Pomodoro due Perchè non dovrebbe servirmi Fragole tre Che ne ho poche Anzi quattro Patate quattro Asparagi due Non dovrebbe servirmi tanti asparagi Asparagi Sesamo Ne mettiamo tre Ok Ora raccogliamo sta roba Aspetta allora Questo è il sesamo Io ne ho messi tre di sesamo Farei le patate Cinque di patate Tre di Ananas Ananas è vero Non volevo aprire sta roba Ananas ok Ok E facciamo giglio Verdura Lattuga Ok Ogni volta che ho un nome diverso Però si chiama Lattuga E poi riso Riso tanto riso Mi serve tanto riso Per il sushi Per l'involtino di sushi Insomma raccoglie al tre di grano Infatti il grano è molto poco Perché tanto si raccoglie anche abbastanza velocemente E insieme faremo l'ultima missione dell'evento C'è questo qua Che il negozio di Susa mi richiede queste quattro cose qua E io le consegno E siamo arrivati a 18 Il prossimo è 48 però quando non ci arriverò mai Perché il tempo mi è contro Vediamo se mi ha sbloccato l'evento Ok mi ha sbloccato l'evento Se non riusciamo ad arrivare a 150 milioni Ci... Ci fa... Ci dà una ricompensa Non so se sia gem o se altre cose Speniamo gem perché mi sanno le gemme, i diamanti Ok adesso lui chiede i picconi e non te li do i picconi Mi spiace signore ma i miei picconi mi servono Poi allora abbiamo tre Questo prendiamo questo e poi consegniamo anche questo Facciamo una consegna in più Siamo anche più efficienti Mi ho fatto una consegna in più Allora qua mi serve il... la mammelata di lampone Ok Mi serve questo qua che l'aveva ruotato di asparagi E mi serve la panna Che non ho Ok Ruotato di asparagi Perfetto la si sta facendo Raccogliamo le ricompense Abbiamo tante monete Anche perché il banco in salate mi ha costato un sacco di oro Di monete Quindi ho dovuto spiegare un sacco di monete Però adesso le sto recuperando Quindi va bene Una torta di carote C'è già Ok Fa vedere se ho fatto abbastanza in video Se ho fatto abbastanza Ho fatto abbastanza Quindi ci fermiamo qua Ci fermiamo qua No Buoni Fa una confusione Attenzione Vabbè adesso Le altre cose le faccio per i fatti miei Penso che ci guarderò io Per fare le cose Magari mi serve una cioccolata Però mi serve il latte Che non ho Mi serve il latte Mi serve il latte che non avevo Adesso ce l'ho quindi mettiamolo Poi facciamo anche altra panna Perché mi serve la panna Assolutamente La panna l'ho finita 3 di panna le facciamo E il resto lo faccio poi off camera Andrò avanti off camera e arriverò a livello 59 Quando avrò sbloccato il livello 59 Vi farò vedere un video Che vi farò il video in cui sono a livello 59 Ogni livello vi faccio un video Se riesco a farlo Ovviamente perché non ho detto che riesco a farlo Ho detto ci provo Non è facile perché appunto Le cose ci mettono tanto tempo Ok io prendo le ricompense Le risorse Le risorse Che mi servono Queste uova ce le hai disponibili Non ce le hai più disponibili Come non ho detto Prima di aver visto il video E non ci sia stata confusione O robe varie Anche se un po' di confusione c'è stata Però adesso Finiamo il video Quindi non dovrebbe essere un problema Va bene dai abbiamo fatto un po' di cose Abbiamo fatto l'evento Abbiamo fatto Abbiamo fatto vedere le novità del livello 58 Almeno quelle che mi ricordo io Perché appunto penso che sono queste le novità del 58 Le ho sbloccate adesso Non in questi giorni Perché è passato un po' di tempo In questo periodo le ho sbloccate Quindi dovrebbe essere le novità del 58 Sono sbagliato vi chiedo scusa Però dovrebbe essere il 58 Penso da un po' che non faccio un video sui dei Quindi ho perso un po' di tempo Anche perché i livelli Ogni volta che vado avanti Ogni livello diventa sempre più costoso Sia di esperienza che di monete Quindi devo andare avanti e fare risorse Io non posso Fare i livelli, consegne Fare quello Fare quant'altro Fatemi girare la ruota intanto Aspetta Qui c'è la ruota da girare Fatemi girare la ruota insieme a voi Vediamo cosa esce Sono fortunato Sette Mediamente Mediamente fortunato Nove Stavolta molto fortunato Che non lo uso adesso perché voglio Voglio conservarli per qualche missione più avanti Va bene dai Io spero che il video vi sia piaciuto È durato giusto È durato un po' E adesso farò altro Adesso magari se riesco a vedere giusto un altro video Ma non lo so se riesco a farlo Perché Dipende il suo tempo Sono un po' impegnato Però intanto Stiamo andando avanti Quindi sto vedendo dei progressi Sono qua Non so quando vedrete questo video Se è giovedì o O Se è giovedì o Giovedì Non so se Non so Non so Non so quando ve lo faccio uscire il suo video Anche perché Sono a metà del livello 58 Quindi dovrei arrivare al 59 E dopo vi faccio un altro video dei dei Quindi da vedere Da vedere Magari non c'è molta gente che porta dei dei su canale Però io lo porto Perché l'ho iniziato e voglio terminarlo Se voglio terminarlo Vabbè non terminerò mai Perché le idee va all'infinito Però magari arrivo tipo a livello di Greg A livello 151 E lì sarebbe l'obiettivo Quando non sblocco più novità Dovrebbe essere a posto Perché se non sblocco più novità Vuol dire che Magari ci avrò molto tempo Dovrei avere finito di Andare avanti con i dei Dovrei avere finito Magari in potenza un po' il villaggio Cerca di sblocare più roba possibile Quando avevi fatto tutte le espansioni Tutte le strade dorate Tutti i muri dorati Anche se quelli dorati Sono un po' difficile da fare Quindi non so se le faccio È una cosa che dico io Ma non so se la riesco a fare Però siamo arrivati alla fine dell'evento Abbiamo fatto l'evento Abbiamo fatto delle novità Quindi spero che il video vi sia piaciuto Quindi like se il video vi è piaciuto Un commento Se non vi tocca rifare il video Ed è un casino Anche perché l'evento Non posso più ricompletarlo in video Perché l'ho fatto adesso Quindi non posso completarlo in video È già fatto E quindi Speriamo che vi sia piaciuto bene A presto Ci vediamo alla prossima A presto Grazie Grazie Grazie